Perché Fotodigital Discount si è sviluppato così velocemente? Sì, effettivamente ci ha sorpreso anche a noi, è stata veramente un'onda in piena. Abbiamo aperto questo franchising con la volontà di creare un'associazione di persone che facevano impresa e che potevano essere produttive su questo mercato. Ed effettivamente è stato sopra le nostre aspettative, infatti in soli 4 anni abbiamo aperto più di 300 punti vendita, è stato un risultato veramente strepitoso. Abbiamo avuto sviluppo anche in Francia, stiamo sviluppando anche in Spagna, le ultime aperture della Spagna avverranno questo mese, ne abbiamo altre 3 in cantiere. Quindi effettivamente abbiamo una richiesta enorme, tutti quanti sono pazzi per Fotodigital Discount. E effettivamente questo è un format che dà la possibilità, con il minimo investimento, infatti l'investimento per aprire un negozio chiave in mano, Fotodigital Discount, è a pari al costo di un'utilitaria di una punto, quindi praticamente il rischio di impresa è zero, è come comprare una macchina e una punto. E in più ha un vantaggio di rientro immediato, noi abbiamo affiliati, tipo il nostro affiliato di Messina che è rientrato in due mesi e mezzo. Quindi vi do proprio i termini chiari e pratici, Fotodigital Discount è veramente un compromesso fra investimento e creatività, che è veramente incredibile. Noi viviamo questo tipo di realtà, avendo tipo community, perché siamo tutti in collegamento su una chat, ci vediamo, ci interfacciamo. Quindi è una grande famiglia. Entrare in Fotodigital Discount significa trovare una famiglia e lavorare tutti insieme. Questo è il nostro obiettivo.